Ciao a tutti e tutte, sono Martina e oggi ho la possibilità di intervistare Ema Dei Talco, una band storica di Marghera con una carriera appunto ventennale alle spalle. Ciao Ema, come stai? Bene, bene, grazie. Bene, vorrei iniziare con la prima domanda che è inerente all'ultimo disco, Insert Coin, che è uscito qualche mese fa. Dunque, sulla copertina del vostro album c'è appunto questa illustrazione che si rifà molto ai fumetti classici bonelli, in particolare quelli di Dilan Dog. A cosa è dovuta questa scelta? Beh, in realtà non me lo spiego neanche io perché sia arrivata solo adesso, nel senso che io sono un appassionato di Dilan Dog da quando ne ho nove anni, quindi molti, molti anni fa. E è sempre balenata questa idea di fare una copertina di omaggio ai fumetti di Dilan Dog, però a volte le cose più semplici, tra virgolette, le rinvii, le cose più difficili le fai prima. In realtà ci stavo pensando da tanti anni e secondo me si sposa anche con il tema di questo disco EP, perché è un'introduzione a una storia nuova, che sì è impegnata come i vecchi dischi, però ha anche un lato introspettivo, quindi secondo me faceva il caso suo. Ok. Dunque, voi appunto siete partiti da Marghera e quest'anno siete approdati sul palco del Punk in Dublick con figure anche come ad esempio i NoFX. E volevo chiederti, il tuo io di vent'anni fa ci avrebbe mai creduto al punto in cui siete appunto arrivati adesso calcando il palco di questo festival? No, sicuramente no. Il mio io di vent'anni fa sperava di fare un disco al massimo qualche concerto dopo di finire, non nell'oblio però cambiare attività, insomma non credevo che saremmo arrivati a questo punto. Mi rende fiero questa cosa, però ogni cosa che accade, praticamente che è accaduta dopo il primo disco, il primo concerto, per me è totalmente inaspettata. Ecco, infatti volevo chiederti come siete arrivati a suonare appunto sul palco del Punk in Dublick? Noi in realtà abbiamo cominciato in un periodo in cui a livello di punk italiano non c'era molta offerta, non c'era molta offerta per i gruppi nel senso i locali stavano chiudendo, il punk non andava più come una volta diciamola così terra a terra e c'è stato offerto subito di andare all'estero, c'è stato consigliato più che offerto. All'inizio con tour autogestiti, dopo man mano che facevamo un po' più gente abbiamo trovato dei booking che ci aiutavano, finché siamo arrivati a Destiny, che è stata la nostra etichetta da prima e poi il nostro booking, e un po' alla volta, concerto dopo concerto, siamo arrivati ad avere questa fortuna. Ok, grazie. Come ben sai, lo Sherwood Festival è un festival indipendente e l'indipendenza come tematica per noi è molto importante. Riguardo appunto l'argomento dell'indipendenza, l'ultimo album è stato un album totalmente autoprodotto, quindi Do It Yourself, che è quasi diciamo l'emblema dell'indipendenza. Volevo chiederti come avete gestito la cosa, cosa significa per te essere appunto indipendenti? Beh, questo è stato proprio indipendente del tutto, come hai detto tu, è stato un Do It Yourself, dovuto anche a esigenze del momento, eravamo comunque in pandemia, in post pandemia, sia quando abbiamo fatto il disco acustico che questo EP, e dovevamo gestirci le cose tra noi, InterNOS. Non ci ha dato assolutamente fastidio, anzi ci ha dato anche nuove risorse, ci ha offerto nuove risorse, nuove cose da sperimentare, come anche registrare mixer da soli. Per me è molto importante, nel senso che è difficile, per quanto siamo anche accomodanti come persone, è difficile per noi avere dei paletti dall'esterno, dal punto di vista compositivo, dal punto di vista del far musica, di come organizzare concerti. Quindi per noi è essenziale, senza una certa libertà e indipendenza non potremmo suonare noi. Ok, bene. Entrando sempre in merito del vostro ultimo album, volevo focalizzarmi su un pezzo in particolare, che è Papel, che avete appunto promosso sui social con questa frase che cito. Anche tu desideri ardentemente Papel, un semplice morso, e potrai anche tu entrare in un mondo onirico, esibizionista, superficiale e statico, che risponde alla banalità del male con il male della banalità. Potresti dirci cosa significa e di cosa parla questa canzone? Sì, allora, io credo che sia un argomento che abbiamo affrontato molto spesso con Italco, e come l'abbiamo affrontato in questa canzone credo che sia quello un po' più sentito. Nel senso che abbiamo notato che rispetto a un certo tipo di retorica alcune persone, non tutte, hanno fatto una carriera. Credo che gli ideali che si vivevano una volta, ai tempi anche del G8, si siano spogliati, in un certo senso, di una certa retorica, forse un po' superficiale, al di là della quale non si ha il coraggio di andare. Sta diventando quasi una moda. Io credo che la profondità nella ricerca, nell'imparare cose nuove rispetto ai propri ideali possa solo essere qualcosa che ingrandisce il valore di quell'ideale. Credo che appartenere un po' al trend di questa retorica snaturi la bellezza degli ideali che io stesso professo, insomma. Ok, infatti la mia ultima domanda era tesa appunto sull'argomento della politica perché i talco sono sempre stati un progetto che si è schierato a sinistra politicamente e si è rivelato, diciamo, fotori di tematiche sempre antirazziste e direi anche antisessiste. Ecco, come la politica ha influenzato i vostri scorsi lavori e come le tematiche, comunque gli avvenimenti storici che abbiamo vissuto negli ultimi due anni, come la pandemia da Covid e la guerra in Ucraina ha influenzato i vostri ultimi lavori? Allora, sulla guerra in Ucraina non posso dirlo perché è uscito poco prima, sfortunatamente l'abbiamo registrato poco prima. Beh, noi siamo... abbiamo cominciato l'attività praticamente dopo il G8, quindi abbiamo avuto degli anni un po' difficili anche il berlusconismo, abbiamo avuto anni appunto in cui la superficialità, quella di cui parlavamo prima, ha attecchito totalmente la società assieme alla mondanità, al disinteresse, al disimpegno. Quindi per noi è stato importante anche portare un messaggio all'interno di questo mondo un po' troppo disimpegnato e disinteressato. Sicuramente dopo, adesso lo vediamo tutti i giorni, insomma, Fratelli d'Italia, il populismo delle destre, della Lega, ma anche un po' quello dei Cinque Stelle, insomma, lo vediamo, sono tutte conseguenze del degrado intellettuale, artistico e politico di una classe dirigente che ha vissuto il berlusconismo fondamentalmente. Dal punto di vista della pandemia credo che la pandemia abbia insegnato come sfruttare il tempo, almeno a me personalmente ha insegnato come sfruttare il tempo, molto spesso non si fa tesoro del tempo che si ha a disposizione, lo si investe in una maniera troppo frenetica e questo può portare anche a un impoverimento sia morale che culturale che spirituale, tutto quello che si può mettere in mezzo. A me la pandemia ha insegnato a fermarmi e a fermarmi ho imparato a coltivare molti più interessi rispetto a quelli che avevo anche prima. Bene, ok, grazie mille, ti ringrazio. Grazie a tutti.